8 mesi di carcere, pena sospesa, li ha patteggiati il 22enne militare americano di stanza alla Ederle Kadim Austin Rhee, coinvolto nel maggio del 2016 nella rissa scoppiata all'esterno della discoteca Liv di San Michele. Rissa che aveva visto il coinvolgimento di una ventina di persone tra militari americani e alcuni africani. Tra loro un 21enne che ha già patteggiato ad un anno e 8 mesi di reclusione, anche in questo caso pena sospesa, l'africano è considerato il responsabile del ferimento del 22enne statunitense ricoverato dal San Bassiano con ferite da arma da taglio.